Ricominciamo dai giovani e questo è il titolo del webinar che si terrà domani pomeriggio alle ore 18 sulla piattaforma Meet. A curarne l'organizzazione e la redazione di Scialla, un blog nato come vero e proprio luogo di incontro e di confronto che punta a promuovere idee costruttive, a trovare soluzioni propositive a quelli che si rivelano essere i bisogni della città vedendo nella collaborazione e nella condivisione importanti punti di forza. Anche lo stesso logo scelto come simbolo del blog, infatti, è caratterizzato proprio da un insieme di braccia e di mani che comunicano gesti di ottimismo. Quello di domani dunque sarà un momento di confronto tra dirigenti scolastici, rappresentanti del mondo dello sport, associazionismo e chiesa territoriale che affronterà come argomenti centrali i nuovi bisogni e il disorientamento causato dalla pandemia, soprattutto tra i bambini e gli adolescenti. Così come specificato, la proposta che sarà presentata domani in un'ottica di valorizzazione degli stimoli offerti dal territorio sarà quella di riuscire a dare vita ad un patto scuola-territorio. Ad introdurre il webinar sarà Salvo Liotta della redazione di Scialla. A seguire i vari interventi previsti, curati rispettivamente dalla psicologa, psicoterapeuta Sandra Lombardo, da Don Nuccio Puglisi, parroco della parrocchia Cristo Re di Paternò, nonché assistente di distretto degli Scout d'Europa per la Sicilia orientale, da Rosaria Musumeci, professore associato di idraulica, ingegneria idraulica e sanitaria ambientale dell'Università di Catania, e poi ancora dal direttore generale Paterno Volley, Daniele Prezzavento, dal dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale, Francesco Re di Belpasso, Paternò Biancavilla, Giusi Morsellino, e dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo, Giovan Battista Nicolosi di Paternò, Davide Platania. A moderare l'incontro sarà il direttore della nostra testata giornalistica, Meri Sottini. Scialla è un blog, Scialla è un blog di giovani, anagraficamente giovani, diversamente giovani. Nasce dalla commissione sociopastorale del dodicesimo vicariato e praticamente conta di tirare fuori tutto il positivo che c'è in noi. Positivo chiaramente nel senso più alto del termine. Consideriamo che blog di denuncia, blog che evidenziano le storture della vita, ce ne sono tanti. Noi abbiamo pensato Scialla, che è un termine ormai che anche l'Accademia della Crusca riconosce, che è un termine usato sia dai giovani ma anche dai meno giovani. Abbiamo pensato Scialla invece di dare spazio a tutto ciò che di bello c'è nel nostro territorio. E vi assicuro che c'è tanto di bello nell'associazionismo, nella cultura, nell'ambiente. Ci sono davvero tante cose positive e Scialla ha pensato di metterle insieme. Poi nel concreto, dopo quest'anno che abbiamo passato con quello che abbiamo passato, un anno che per chi non è giovane dura sicuramente meno, ma per chi ha 16 o 17 anni, un anno, vi ricordate quanto durava. E allora vogliamo ripartire da questo, vogliamo ripartire da questi giovani, vogliamo dare spazio ai giovani che non sono il futuro, i giovani sono il presente. Questa è la nostra idea. Vogliamo mettere insieme le forze sane, le forze vere, le forze belle della città, vogliamo mettere insieme la scuola, vogliamo mettere insieme l'associazionismo, vogliamo mettere insieme l'ambiente, vogliamo mettere insieme la chiesa e avere un punto di partenza. E da questo vedremo cosa verrà fuori. Chiaramente l'incontro è aperto a tutti, anzi, più partecipate in maniera attiva e più riuscito sarà l'evento. Sarà in web, sarà dalle 18 in poi e il Meet, credo che sia sotto me mentre parlo, per cui potete partecipare, e ci sarà anche uno spazio dibattito anche per proporre e per suggerire nuove idee.